Innovazione, talento, ricerca e sostenibilità. L'Istituto Alessandro Volta di Alessandria, un polo trainante per il territorio, presenta il suo Open Day, un'occasione per conoscere da vicino i 5 corsi tecnici e il liceo scientifico delle scienze applicate, anche a curvatura sportiva. Sabato 26 novembre a scuola su appuntamento e venerdì 25 novembre alle ore 21 incontro online con le famiglie. Per tutte le info e le prenotazioni visitate il sito della scuola www.volta.edu.it sezioni orientamento e prenotatevi Istituto di istruzione superiore Volta di Alessandria, Spalto Marengo 42 Il futuro comincia da qui